Musica Buongiorno e ben ritrovati con l'edicola di 8 Channel Leggiamo i quotidiani di oggi, cominciamo dal quotidiano Il Roma Cominciamo dalla prima pagina Il rione Terra scomparve in aula L'apertura è sulla cronaca, il Consiglio Comunale revocò la delibera incriminata e poi gli arresti Un'altra operazione ieri a Napoli, cocaina, SPA, alba di manette Scacco alla holding del RAS Carbone, 29 gli arresti ma 3 narcos sono ancora in fuga Andiamo all'interno a leggere le notizie di cronaca La mala Napoli, bucato il sistema della holding tra Napoli e la provincia Azzerata la rete del RAS scissionista Decapitate due organizzazioni Quindi hashish e cocaina dalla Spagna e dall'Olanda per i clan napoletani Uniti negli affari a 6-0 Anche in presenza di inimicizie o contrasti Un classico della malavita portato avanti con la benedizione di Bruno Carbone da Dubai E con il massimo delle precauzioni possibili A cominciare dall'utilizzo del sistema criptato Montato a costi elevati su smartphone di ultima generazione Ma i carabinieri del comando provinciale e quelli della TD hanno ribattuto con investigazioni ad alto livello E ieri hanno azzerato i due gruppi che agivano proprio sull'asse Barcellona-Amsterdam-Napoli Ben 29 gli indagati sono stati destinatari di altrettante misure cautelari E tra essi spiccano i nomi noti alle forze dell'ordine Come Giovanni Cortese di Secondigliano, storico fedelissimo dei Di Lauro E poi c'è Carlo Esposito di Pianura, Vincenzo della Monica Mentre tra coloro per i quali non è scattato il provvedimento restrittivo C'è Giuseppe Mazzacarro, articolazione territoriale dei Sorianiello La droga poi soprattutto ascesce cocaina in quantità industriale Era ordinata e acquistata attraverso una serie di comunicazioni tra sodali Con criptofonini inizialmente inattaccabili Poi la rete è stata bucata nel corso delle indagini Per rintracciare carbone, latitante di lusso a Dubai E braccio destro di Raffaele Imperiale La svolta quindi, andiamo a vedere la svolta di queste indagini Grazie alle confessioni dell'ex fedelissimo di Imperiale I quantitativi predisposti ogni due settimane Quindi per due anni, dicevo, rifornito della Monica e Nappa Proprio quindi legato ai broker internazionali di droga A tal punto, secondo quanto, ha dichiarato proprio il collaboratore di giustizia Catturato in Silia a marzo del 2021 Da tatuarsi dietro la schiena le iniziali di tre campioni Appunto da aprile 2020 e fino a marzo 2021 Ha messo a verbale Ho fornito cocaina a Vincenzo della Monica Ma ricordo che veniva chiamato Gabibbo e a Michele Nappa Quindi i rapporti tra i due, per quanto ne so Erano in diretta collaborazione Di fatto erano proprio due soci Fornivo a loro la droga con cadenza bisettimanale E ogni occasione, ha detto, si approvvigionavano di 15-20 chili Quindi i marchi di cocaina che compravano da noi Era Adidas, Barcellona e poi ancora altri Insomma, questi sono i particolari contenuti nell'ordinanza della Procura di Napoli Ancora il retroscena Manzoni porta in consiglio comunale Il provvedimento, arriva poi la revoca Parliamo di un'altra operazione che ha colpito il comune di Pozzuoli Il sindaco per la gestione del rione Terra Pensiamo a un partenariato pubblico e privato Quindi votavano contro i consiglieri comunali del Vaglio Sebastiano, Villani, Maioni E soprattutto, dice di no, Vincenzo Figliolia Leader della minoranza Poi c'è l'opposizione di Pozzuoli E poi gli obiettivi di contrasto a quelli poi affiorati con la dirompente inchiesta Quindi niente maggioranza Una sconfitta cocente per il primo cittadino uscente il 5 agosto È il giorno della svolta Il dibattito è aperto Va anche valutata una gestione naus Dicevano, ma la strada sarà sbarrata ai privati E poi l'ex primo cittadino ancora dicevi State assumendo una brutta responsabilità Intanto erano pronti gli arresti Anche qui, insomma, contenuti in questo articolo Tutti i particolari dell'inchiesta di Pozzuoli Allora, andiamo a vedere l'autonomia L'esame del DDL appunto sul primo round Arriva al Senato Sul PNRR siamo messi bene Abbiamo smentito tante cassandre Ha detto il ministro San Giuliano Non le delle regioni come la Campania Si abbia la capacità di spendere quindi le risorse E ha detto Non credo che l'autonomia differenziata Le da regioni come la Campania Piuttosto mi iscrivo al meridionalismo di Giustino Fortunato Che era piuttosto severo con i suoi concittadini Dobbiamo avere la capacità di fare Ho detto che dei fondi strutturali Ed investimenti europei 2014-2021 Abbiamo speso solo il 37% Quindi mi rammarico dice ancora San Giuliano Avremmo dovuto spendere tutto Come ho fatto io al Ministero Quello che è stato stanziato in Campania Sarà speso fino all'ultimo millesimo Quindi il Ministro della Cultura Interviene proprio sul tema del giorno In cui il DDL Calderoli Inizia il suo percorso parlamentare E a margine della presentazione della targa commemorativa Per lo storico Raffaele Aiello Il filosofo Gerardo Marotta La biblioteca del liceo classico scientifico di Napoli Aggiunge parlando proprio sul PNRR E ha detto Siamo messi bene Abbiamo smentito le tante cassandre Allora andiamo avanti a sfogliare in Roma Andiamo a vedere ancora i fatti della politica Il governo Meloni dice L'anno decisivo La Premier dice Grandi risultati nel 2023 Slitta dice l'ok Al testo sull'Election Day Quindi prima cabina di regia A Palazzo Chigi Il lavoro di squadra che siamo riusciti a costruire In questi mesi ci ha consentito Di chiudere il 2023 Con un bilancio estremamente positivo Abbiamo ottenuto quattro grandi risultati Il completamento e la verifica degli obiettivi Per il pagamento della terza rata La verifica e la rendicontazione degli obiettivi Per chiedere la quarta rata Versata dalla Commissione europea Il completamento della revisione del PNRR E poi il raggiungimento degli obiettivi Per la quinta rata E la presentazione della nuova richiesta di pagamento Queste sono le dichiarazioni di Giorgia Meloni Dice il 2024 Ha detto poi È un anno decisivo Ed è necessario assicurare il massimo presidio Dell'attenuazione di tutte le misure concordate Allora andiamo ancora a sfogliare Il quotidiano napoletano Campania BOM dell'aerospazio Nargi di Intesa San Paolo Dice rafforziamo il nostro gruppo Il nostro supporto Per la crescita dell'intera filiera del comparto Quindi il settore che ha creato valore aggiunto Per l'economia regionale Per 880 milioni Le altre notizie Ancora Andiamo a Salerno Si infiamma la rivolta delle mamme La protesta all'istituto Tommaso D'Aquino Arriva sotto al comune Fischi e contestazioni contro l'assessore Per lo smembramento dei plessi Giovio, Iara e Calcedonia Quindi urla Accuse e fischi Una mattinata ad alta tensione All'ingresso del comune di Salerno Proprio per la protesta organizzata dai genitori Dell'istituto di Fratte Con loro anche i piccoli alunni Docenti che contestano il piano di dimensionamento scolastico Che smembra la scuola Tra i plessi di Giovi, Iara e Calcedonia Quindi vergogna Questo è il grido Che risuonano davanti al palazzo del comune Ad Angri Un'altra notizia Sempre riportata da Roma Il sindaco contro i tifosi violenti Quindi Ferraioli dice Gli aggressori del comandante dei Carabinieri Si facciano avanti Quindi il sindaco Cosimo Ferraioli Che rivolge proprio un appello Ai tifosi Che domenica scorsa Dopo la partita contro il Matera Nel tentativo di scontrarsi con la tifoseria Ospite Hanno aggredito il comandante Della stazione dei Carabinieri Allora andiamo ancora A sfogliare il quotidiano in Roma Andiamo a Pietrelcina Rubava le offerte a Padre Pio Ed è stato arrestato Il blitz nell'ambito di un'operazione a vasto raggio Dei Carabinieri contro la microcriminalità e spaccio In manetto finisce un 58enne Con precedenti di giustizia sorpreso A saccheggiare l'area liturgica A centopagina ad Avellino La procura monitorata dal Ministero E il sottosegretario del Mastro Che annuncia le ispezioni Quindi l'ispettorato generale Del Ministero della Giustizia A partire dalle ispezioni Ordinarie eseguite nel mese di settembre Dell'anno 2023 Ha attivato un monitoraggio Proprio su 13 procure italiane Tra cui c'è anche Avellino Così come in aule alla Camera Il sottosegretario del Mastro Rispondendo a un'interpellanza Presentata dal deputato Costa In merito proprio al rispetto del principio Della presunzione di innocenza Con particolare riferimento Alle conferenze stampe Ai comunicati degli organi inquirenti Nonché ai limiti di pubblicazione Delle ordinanze E quindi delle intercettazioni Allora andiamo ancora a vedere le altre notizie Andiamo a Napoli Prendiamo di Bagnoli L'accordo per l'elettrificazione Quindi il commissario straordinario Manfredi Vitalia Eterna Firmano l'intesa Un passo in avanti Per il risanamento Il sindaco dice Fondamentale Per il presente Per il futuro Del quartiere Invece Eterna Zanuzzi Dice Esempio di collaborazione virtuosa A centropagina Nell'incontro Alla San Giacomo Tra Manfredi e La Rocca Quindi per il condone Il comune Ora cerca l'intesa Con la sovrintendenza E poi Abbiamo letto San Giuliano Che è stato presente Per la targa Marotta E Aiello Proprio nella biblioteca Dello Sbordone Incontra proprio gli studenti Allora le altre Notizie Ancora da Napoli Il crollo In vicolo del Pero Un ferito E sei evacuati Quindi paura Nei pressi del museo archeologico Interessate Un locale Bagno E uno al primo piano Quindi si pensa Una deflagrazione In apertura della pagina Ancora la cronaca L'accedimento di via Manzoni La strada resta chiusa Il problema Alla volta Di un collettore fognario Quindi lavori Fino a venerdì Ma l'acqua Non sarà interrotta Allora Queste erano le notizie Riportate sul Roma Adesso andiamo a Repubblica Napoli Leggiamo Cominciamo dalla prima pagina Autonomia S.S. a Mattarella Questa legge È ingiusta Questo è il titolo Protesta in piazza Del plebiscito Contro il Didiello In discussione Al Senato Spacca Italia I manifestanti Consegnano una lettera Al prefetto Affinché La trasmetta Appunto Il capo dello Stato E poi parliamo Dell'inchiesta L'ex tesoriere Odati Smentisce Odati Denaro per le tessere Dice No Sono tracciate Allora andiamo all'interno A sfogliare Appunto Repubblica Napoli Leggiamo proprio il caso Dell'inchiesta Dell'indagine L'imprenditore Salvatore Musella Versava denaro In maniera Sistematica E sfacciata All'ex dirigente Nazionale Odati Del PD Odati Non solo per aiutare L'impresa A ottenere La concessione Per Rione Terra di Pozzuoli Le mazzette Accusano I magistrati Non si fondavano Su singoli affari Odati Sarebbe stato Al soldo Di Musella Che ne sfruttava I contatti E le sue influenze Su colleghi di partito E altri amministratori pubblici Lo scrive proprio Il giudice Baldassarre Nell'ordinanza Che ha portato In carcere L'imprenditore E il politico Insieme all'ex sindaco Di Pozzuoli E l'ex presidente Della Enit Con l'ipotesi Di turbata Libertà Degli incanti Dunque L'indagine Che coinvolge L'ex consigliere Regionale Della Calabria Romeo E l'esponente Dem Luciano Santoro Entrambi raggiunti Da un obbligo Di presentazione PG Per traffico Di influenze Potrebbe Allargarsi Quindi Nelle intercettazioni Ricorda il giudice Vi sono chiari Riferimenti Appuntamenti Con esponenti Politici nazionali Di primo piano E si alludeva Ad esempio A un ulteriore Incontro Con soggetti Ai vertici Della regione Puglia Quindi Le indagini Continuano I pagamenti Vediamo Uno stralcio Dell'ordinanza I pagamenti Per sfruttare I contatti E le influenze Dell'ex dirigente Dem Su colleghi Di partito E altri Amministratori Pubblici Quindi L'accusa Dell'ex tesoriere Del PD Verini Denaro Per le tessere Di cena Sono tracciate I contanti Sono un'anomalia Allora Andiamo a vedere L'altra Notizia Riportata anche In prima pagina Parliamo Dell'autonomia I manifestanti Quindi ricevuti Dal prefetto Dicono no A una legge Ingiusta Quindi Parliamo Del presidio Dei comitati Per la difesa Della costituzione Una delegazione Che incontra Di Bari E dice Fermare Una riforma Che spacca In due L'Italia Quindi in piazza Sono scesi Associazioni Ampi Esponenti Del PD Movimento 5 Stelle Dei partiti Della sinistra Poi i sindacati CGL Will Usb E Cobas In 200 Erano Per dire no Al DDL Calderoli Ma non ci sono giovani Ci sono anche Gli ex sindaci Bassolino E De Magistris E poi Andiamo a vedere Le altre notizie Su Repubblica Napoli Parliamo di Capodimonte La giornata Di Schmidt Riunioni E passeggiata Con Bellegere Prima Il passaggio Di consegne E con il direttore Generale Dei musei Massimo Sanna Poi l'incontro Con l'ex direttore Del museo E poi L'ex degli uffizi Riceve I rappresentanti Di tutti I dipartimenti I funzionari I custodi I dipendenti Per arrivare Avviare La nuova gestione Quindi secondo giorno A Capodimonte Per il nuovo direttore Che arriva alle nove Pronto per una prima Ricognizione Nella reggia E nel bosco Molte le riunioni In scaletta Con i rappresentanti Di tutti i dipartimenti Quindi la mattina Prende il via Da un incontro Con Osanna Che ha avuto L'interim Della direzione E della fase Di interregno Allora Andiamo a vedere Ancora Le altre notizie Sempre da Napoli Via Il busto di Mussolini Dal Cardarelli E di un chirurgo Regalo Di un paziente E partita appunto L'ispezione interna Ed è stato ascoltato Dalla responsabile Del servizio Ispettivo Bartone Già candidato Alle comunale Con lettieri E maresca Quindi con lei Dice sul duce Ci poggiavamo I camici Quindi è un busto Che è stato dimesso Dal reparto Via di fretta e furia Quindi ironia della sorte Fino a lunedì Benito Mussolini Era in mezzo Alle cartelle cliniche Dei pazienti Quelli in carne ed ossa Nella stanza Con tre scrivanie Riservate proprio Ai medici Chirurgia tre Padiglione A Del Cardarelli Sul duce Ci poggiavamo Pure i nostri camici Confessa ora Un chirurgo Per oscurarlo Non dare nell'occhio E non toccare La suscettibilità Di qualcuno Quindi con la foto Pubblicata 48 ore fa Sul sito Internapoli La statuetta Con l'inconfondibile Mascella pronunciata Incollata A un treppiedi bianco Fa ammalare Di nostalgismo Persino Il più grande Ospedale del mezzogiorno Quindi ieri mattina Nel reparto Ci sono presentati Gli ispettori Sul mandato Della direzione generale Quindi non è stato Rinvenuto il materiale Oggetto dell'ispezione Che a quanto riferito È stato rimosso Si legge proprio In un comunicato Quindi il caso È chiuso Non proprio Quindi è caccia Elementi probatori E dichiarazioni Del personale Quindi in forma Ancora la nota E con tutti i guai Della sanità campana Viene da pensare Ci mancava solo La fascisteria Del momento Allora ancora Andiamo a vedere Le altre notizie Anzi no Andiamo a sfogliare Adesso i fatti quotidiani Con Repubblica Nazionale Allora Porta l'intervista Repubblica In primo piano Riporta l'intervista Al presidente Della consulta Barbera Che diceva Difese il pluralismo Della corte Invece in apertura Proprio del giornale Trump Che scuota l'America Parliamo della campagna Elettorale Per la casa bianca Davos Muro Dell'UE All'export cinese Zelensky Dice Putin Un predatore Allora Andiamo all'interno Eccola qua L'intervista Abbiamo detto Leggiamo qualche stralcio Del presidente Della consulta Barbera Dice per fortuna Non ho visto le foto Di Accalarenzia Non aspetta I giudici Costituzionali Occuparsene Ma semmai Alle procure Quindi quelle braccia Tese Le ho viste Negli stadi Esprimono La paura Del diverso E poi Dice Trasformare la consulta Come in Polonia E Ungheria Non sarebbe possibile Non lo consentirebbero Dice ancora Barbera La costituzione Le leggi Negli anni Non ho colto Oppressioni Improprie E poi Ancora Dice il neopresidente Appunto Della corte costituzionale Dice la premier Sembra collocare Spero di sbagliarmi Poi dice ancora L'elezione dei giudici Sul piano di talune Pratiche poste in essere Sotto tanti governi Quindi necessarie le riforme E no ai premi di maggioranza Truffa E poi dice anche I magistrati Sono titolari Del diritto Di libera espressione Delle opinioni Assicurato per tutti Dall'articolo 21 Della carta Quindi si tratta Di vedere In che modo E in quali Occasioni E poi dice ancora È stato un errore Aumentare ai due terzi Il quorum Per le amnistie Quindi la corte Si espressa Sulle carceri Fino a vincolare Il primo atto Del governo Che ha modificato L'ergastolo Ostativo Ecco Parla anche Appunto Del problema Delle carceri Allora Andiamo a vedere A leggere L'altra inchiesta È rietato Parlare Con i giornalisti Del mastro Abbiamo letto Appunto Della commissione Delle ispezioni Sulle 13 procure Quindi Restrizioni Alle conferenze Stampa Dei magistrati Da Avellino A Brescia Da Cagliari A Torino Quindi gli uffici Della penisola Nel mirino Degli ispettori Dopo quello Sulla legge Bavaio Quindi il nuovo Assist Di Costa Proprio al governo Quindi Come uno Spartito Che si ripete Enrico Costa Provocatoriamente Chiede il governo Ben contento Risponde Segue un polverone Ieri alla camera È andato in scena L'ennesimo atto Di quella che purtroppo Non è una farsa Ma qualcosa di ben più pericoloso Quindi il tentativo Di silenziare La cronaca giudiziaria Sui media italiani Quindi dopo la discussione Sulla norma Che impedirebbe Di far conoscere I contenuti letterali Delle ordinanze Di custodia cautelare Dopo la proposta Di sbianchetterare I nomi Degli indagati Negli brogliacci Delle intercettazioni Telefoniche Ieri È stata la volta Di una intimidazione Velata La definizione Del segretario Di area Il giudice Zaccaro Per i giornalisti E magistrati Quindi un'intimidazione Che suonava più o meno così Cari PM Occhio A parlare con i giornalisti Perché abbiamo già in corso Almeno 13 ispezioni Sui rapporti Tra procure e stampa Quindi a dirlo È stato proprio Il vice sottosegretario Andrea Del Mastro Con una circostanza Non esattamente neutra Visto che il parlamentare Di Fratelli d'Italia È sotto processo A Roma Ed è in qualche modo Uno dei protagonisti Dello scandalo Sul collega di Capodanno Pozzolo Quindi Allora Andiamo avanti Con le altre notizie Nuovo vertice flop Quindi tra Meloni E vice E i vice Muro a Salvini Sul terzo mandato Quindi sulle regionali Estallo E non c'è intesa Su Sardegna E Basilicata La trattativa Sincaia Sul Tris Per Zaia E salta Il decreto Sull'Election Day Quindi la faia a destra Si allarga Arriva fino al Veneto E non c'è più Di mezzo La Sardegna Che Fratelli d'Italia Vuole soffiare Alla Lega O la Basilicata Che i leghisti Vogliono sottrarre A Forza Italia Per compensare Il danno Cedendola magari A un candidato civico Quindi il vertice Di ieri Tra Giorgia Meloni Salvini e Tajani Avrebbe dovuto Essere risolutivo Invece A sera Quando il segretario Sgusciava Via Da Palazzo Chigi Mentre l'alleato Leghista Si tratteneva Ancora per un'ora Cancellando L'ospitata Al Tg2 La maionese Delle regionali Era definitivamente Impazzita Quindi si discute Ancora con Le alleanze Verso le regionali Quindi Non passa in Veneto La legge Sul fine vita Si spacca La destra Decisivo Un voto Dem Quali sono i punti Il fine vita Dai giudici Il risultato di ieri Quindi La consulta Con la sentenza 242 La Corte Costituzionale Aveva indicato Le circostanze In cui era punibile L'aiuto al suicidio Quali sono i criteri Quindi la patologia Deve essere irreversibile Con trattamenti Di sostegno vitale Sofferenze fisiche O psicologiche Insopportabili Quindi deve essere Espresso Un libero consenso Il terzo punto Che cosa riguarda La proposta veneta La proposta D'iniziativa popolare Accogliendo i criteri Della Corte Prevedeva 20 giorni Dalla richiesta Per decidere E 7 Per dare un'esecuzione Poi Alla decisione C'è l'accordo Sull'autonomia Ma a ribasso Quindi Fratelli d'Italia Anacqua La riforma Della Lega Si farà Ma solo dopo I LEP Che per ora Sono senza fondi Quindi PD E Movimento 5 Stelle Dicono Un becero Baratto Allora Queste sono Le notizie Di Repubblica Nazionale Adesso andiamo A leggere Le prime pagine Degli altri quotidiani Di oggi Andiamo Cominciamo Con cronache Di Napoli Sgominati Due clan L'apertura Naturalmente Sulle operazioni Di ieri Di polizia E carabinieri Quindi Operazione contro Il narcotraffico Internazionale 32 Sono gli indagati Tra Ponticelli Secondigliano A Pianura Rione Traiano Marano Cercola San Giuseppe Vesuviano E Casavatore Quindi fiumi di droga Trasportati Anche in ambulanza Per rifornire Le piazze di Napoli Caivano E anche l'area L'area Vesuviana Allora Scoperto Lo spaccio In moto A Rione Sanità Parlavamo Dell'altra operazione Un gruppo autonomo Con il quartier Generale Nella zona Dei Vergini Gli ordinativi Al telefono La consegna Effettuata Dai Corrieri Allora Andiamo a vedere Le altre notizie Riportate Sul quotidiano Cronache Di Napoli Serie A Parliamo del calcio Quindi dopo Traore Arriva pure Ngonge Domani la Supercoppa E l'esonerato Invece Murigno Bufera politica Dopo l'inchiesta Sugli appalti A Pozzuoli O dati in carcere Per le mazzette Fratelli d'Italia Dice Silenzio Assordante Allora Questa era la prima pagina Del quotidiano Cronache Di Napoli Andiamo anche a Caserta Con l'edizione Casertana Arrestato Impiegato Del comune Aversa Si allarga L'inchiesta Sui furbetti Del cartellino In 22 Nel mirino Dei magistrati Che indagano Sulla truffa Ai danni Dello Stato Quindi dipendente Dell'area tecnica Finisce ai domiciliari Sospeso dal lavoro Insieme ad altri 12 colleghi E poi Il sindaco di Marcianese È pronto a rivolgersi Al prefetto L'inferno traffico A Caserta Sud Rilasciate le licenze Senza criterio Quindi un inferno Automobilistico Dice E a determinarlo È stato il ribaltamento Di un camion Oggettivamente poco Per paralizzare Per circa 12 ore Uno snodo viario Cruciale Con le province Di Napoli E Caserta Quindi oggettivamente poco Per generare 8 chilometri Di cuda Su quella strada La cronaca Morto il falegname Pestato sul corso L'artigiano Rigoverato al Sarrocco Di Sessa Aurunca Non ce l'ha fatta E si aggrava La posizione Dunque Del 44enne Fermato A Casal di Principe Appalti e Camorra Schiavone Intercettato Sui contatti Con l'ente Di Villa di Terno Quindi Tanti sono Iami Che aveva gettato Nel mare Degli appalti pubblici E con alcuni In pochi mesi Nicola Schiavone Era riuscito Anche a intercettare Lavori importanti Come quelli di Capodrise E a Casal di Principe E quindi Tra i territori Dove avrebbe provato A insinuarsi C'era pure Villa Literno Queste le notizie Da Caserta Andiamo a Salerno Con il quotidiano La città Ho dati Mazzette Nella sede Della regione Per il giudice Gli uffici Di rappresentanza Di Roma Adoperati Per concili Raccolte Di denaro E altri accordi Illeciti Poi i regali Dell'imprenditore Musella Al funzionario Salernitano Pagava Anche i conti Dell'albergo La busta Bomba Le altre notizie Riportate sul quotidiano Salernitano Nuovo Ruggi Altro stop Riabilitata La prima gara E poi Sul lungomare Giovani aggrediti Con una bottiglia Ancora Salerno Restyling Del corso Il rebus Però Della ripartenza A Battipaglia Invece Caos Espropro In tribunale 63 famiglie Di Belvedere E poi Nocera Inferiore Il pronto soccorso Preso d'assalto E' un assedio Andiamo a vedere L'altro quotidiano Salernitano Le cronache Questa La prima pagina Con Sant'Antuono Travi Bonati Altavilla Silentina Campagna Si festeggia A pagamento Quindi riti sacri E profani Si consumeranno A partire Da questo pomeriggio E poi Le altre notizie Congresso Forza Italia Aliberti Dice passo indietro I parlamentari Non mi hanno candidato E poi parliamo Leggiamo del caso Fusandola Tomasetti Dice Rischio alluvione Regione intervenga Per evitare Le tragedie Anche qui Riportato il caso Dell'inchiesta Di oddati Tascava Li mazzetti Nella sede Romana Della regione Silvia Siniscalchi Dice la geografia Ganci La società Civile Allora Andiamo a vedere Adesso Il quotidiano La notizia Leggiamo la prima pagina Migliaia di studenti Lasciati al gelo In classe Le nostre scuole Cadono a pezzi Mentre buttiamo Miliardi Per le armi Quindi edifici Fatiscenti Manutenzione ridotta All'osso E migliaia di studenti Dal Piemonti Alla Sicilia Lasciati al freddo Mentre per le armi Destra e governo Non badano a spese Le scuole italiane Invece Cadono a pezzi Quindi un report Proprio sugli edifici Scolastici Prima di chiudere Uno sguardo Il quotidiano sportivo Il corriere Dello sport Gonge E altri due Quindi il Napoli Che chiude Per l'attaccante Del Verona E costato 18 milioni Più bonus Quindi Avanza Barak Nuova offerta Per Politano E domani La Fiorentina Speranza Per Caiuste Bene Chiudiamo qui La nostra Rassegna stampa Io vi ringrazio Di averci seguito Vi auguro una buona giornata Pag Buona giornata Qui Audi Per Avanza Barak Pag Spera Misato